Buongiorno amici, in questo breve e facile come al solito tutorial su WordPress andiamo a vedere come inserire una mappa di Google Maps all'interno di una pagina nel vostro sito costruito con wordpress.org Allora, è molto semplice, non servono plugin, non serve scrivere codici strani, basta raccopiare un codice ed inserirlo all'interno della pagina che vi interessa Allora, abbandono le ciance e andiamo subito a vedere come fare Allora, apriamo il nostro sito e andiamo sulla pagina in cui vogliamo inserire la mappa In questo caso la vorremmo inserire nella pagina contatti ma potete inserirla in qualsiasi pagina Allora, questa è la nostra pagina contatti, poi diamo il caso che noi vogliamo inserire qui sotto la mappa Ad esempio dove abbiamo il nostro ufficio, la nostra attività eccetera Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare su Google Maps Apriamo Google Maps E andiamo ad inserire un indirizzo Ad esempio inserirò Ad esempio Times Square a New York Ok, poi diamo il caso che Noi vogliamo inserire questa mappa all'interno del nostro sito perché abbiamo l'ufficio in Times Square Allora, cosa dobbiamo fare? È molto semplice Basta andare su Condividi Qui Ci clicchiamo sopra E si aprirà questa finestra, questo pop-up A questo punto andiamo su, non su Condividi Link ma su Incorpora mappa Perfetto Questo codice lo selezioniamo E lo copiamo Quindi Command C Lo copiamo Torniamo sul nostro sito Andiamo sulla nostra pagina in cui vogliamo inserire la mappa Andiamo su Modifica pagina Ok, siamo all'interno della nostra pagina in cui vogliamo inserire la mappa Allora, non dobbiamo rimanere su Visuale, come vedete qui Ma dobbiamo andare sul testo Qui Allora, qui sotto vogliamo inserire la nostra mappa Quindi andremo ad incollare il codice Iframe che abbiamo selezionato prima Facciamo Aggiorna Andiamo a vedere quello che è successo Andiamo a visualizzare la pagina Ed ecco che abbiamo inserito la nostra mappa all'interno della pagina Noi però vogliamo essere più precisi Quindi vogliamo che la nostra mappa sia perfettamente allineata con il nostro modulo di contatto Quindi come facciamo Allora, vi consiglio di installare se usate Firefox ad esempio Un plugin che è Firebug In questo caso E lo andiamo ad attivare Se volete andare a cercare nel mio sito Sui miei tutorial Ho già fatto un tutorial sull'utilizzo di Firebug Andiamo a vedere quant'è la raghezza di questo box Quindi del nostro Dove c'è all'interno il nostro testo Quindi andiamo su questa freccetta E vediamo che Quello che interessa a noi è questo Primary Macluid Come vedete qui 740 pixel Quindi cosa facciamo? Semplicemente Chiediamo 740 pixel Allora, torniamo sulla modifica pagina Sempre qui in testo dove abbiamo inserito il nostro codice Vedete qui C'è la larghezza Width E l'altezza 8 Abbiamo detto che era 740 pixel di larghezza L'altezza possiamo lasciare 450 Facciamo aggiorno Perfetto Andiamo a visualizzare la nostra pagina E come vedete La nostra pagina E' pronta Quindi la mappa è perfettamente allineata al nostro box di contatto Ok? Spero che questo facile tutorial vi sia stato utile Se vi è stato utile mettete un mi piace Anche un commento se volete E io vi aspetto al prossimo video Ciao amici Ciao amici Ciao amici